Gli scout della parrocchia del Sacro Cuore celebrano i 50 anni dalla fondazione. Che cosa significa per la parrocchia avere un'esperienza come questa al suo interno? Per una comunità cristiana avere al suo interno un gruppo scout della Gesci è una risorsa ed è un dono perché hai delle persone che si impegnano nell'educazione e hai dei ragazzi che crescono attraverso un metodo, attraverso un'esperienza. La Chiesa si interroga molto su come raggiungere i giovani, come educare i giovani alla fede. L'esperienza della Gesci in particolare è un dono per tutta la Chiesa perché attraverso l'impegno di alcuni adulti, di alcuni giovani come capi, scout, danno del loro tempo affinché questi ragazzi a contatto con la natura, a contatto con il servizio, a contatto con tante esperienze anche di volontariato possano capire un po' di più cos'è la vita. Oggi abbiamo organizzato una giornata importante perché è la presentazione del libro che raccoglie proprio le foto, le immagini di tutta la nostra vita scout in questa parrocchia e anche fuori. L'altra cosa che abbiamo appena concluso è la Santa Messa, celebrata dal nostro Don Franco, dal vesco Frango Acostinelli. Per me ha un grande significato perché significa ripercorrere tanti momenti belli, significativi, importanti e non importanti dal punto di vista dell'amicizia, o meglio dire non solo dal punto di vista dell'amicizia, ma belli perché forse sono costati anche fatica talvolta, perché l'impegno educativo è un percorso che richiede disponibilità piena, quindi richiede esserci, richiede anche fatica appunto, però ripensandoci io ci penso con commozione e le dirò che spesso anche oggi nel mio ministero episcopale facendo riferimento a percorsi educativi eccetera io faccio riferimento a un'esperienza vissuta in questa parrocchia di cui faccio nome, indicazione, località e tutto quello che comporta perché devono capire che è stata per noi un'esperienza, per me senz'altro, ma direi per tutti noi un'esperienza molto bella.